Bojan, direttore del torneo Siamo qui a Nova Goriza Un IPT bello Perché c'erano tutti più forti Sono rimasti in 34 Si sta preparando l'ultima parte della sfida Tu come stai? Sei provato? Sei abituato? Come funziona? Nessuno ci chiede Il mal direttore sta bene? Siamo dopo tre giorni di poker Sì, ok Abituato sì Sono abituato assolutamente Poi quello lasciamo stare Perché la salute ultimamente Non è che la mia parte Proprio fortissima La vecchiaia purtroppo per tutti Si sente un po' Si sente un po' Comunque sono rimasti 32 Devo correggerti Perché sono rimasti 32 giocatori Esattamente quattro tavoli Speriamo di andare fino a otto rimasti Oggi si gioca fino agli otto E domani i tavoli Fì otto, giusto così Sensazione tua Il circuito italiano sta crescendo Però questi stranieri sembrano invincibili A tuo modo di vedere le cose Perché? Ancora non siamo pronti? Io sinceramente ancora Non sono riuscito a capire Com'è questo particolare Olexi Kovalchuk Sta andando avanti In tutti i tornei In dei modi Che io sinceramente Non capisco Il rush si dice Si dice il rush Diciamo così Per essere eleganti Ora detto questo Dal tuo punto di vista È un torneo perfetto Impeccabile Tecnicamente è successo qualcosa Di particolare O possiamo dire Che siamo soddisfatti come sempre? Ma veramente non è successo Niente di particolarissimo Diciamo Un svolgimento normale Diciamo L'affluenza Solita diciamo Perché l'ultimo torneo Già abbiamo sentito Una bella mancanza In agosto 2011 Sto parlando Siamo scesi 100 C'è stato un po' di flessione Novagorisa però Non si ferma mai Perché a quanto pare Continua ad essere Un punto di riferimento Per tutti Sono d'accordo Assolutamente Non ci fermiamo Quello è sicuro Ogni weekend Abbiamo dei tornei programmati Perciò È una faticaccia Seguiteci Ultima cosa Il fatto che Tutte le tue collaboratrici Sono tutte belle donne È casuale Sei fortunato O le scegli tu? Le donne in che senso? Tutte le tue collaboratrici Tutte intorno Vediamo che Ti circondi di belle donne È fortuna È casuale Io l'ho scelto una sola Perciò È vero che È sempre qui vicino Però È un bravo ragazzo Diciamo Tutte le altre Detto questo Ovviamente Si scherza Stiamo per vivere Quest'altra giornata di poker In bocca Anche a te Perché c'è tanto da fare Grazie 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 a tutti.